Abbiamo una giornata di lavori qui in provincia dedicata all'aggiornamento sulle attività delle fattorie didattiche. Come sta andando? Sì, è andata molto bene anche perché le nostre aziende erano per la maggior parte tutte presenti e abbiamo avuto tra l'altro anche due o tre aziende interessate ad aderire al circuito che ancora non ne fanno parte quindi volevano saperne di più e addirittura è venuta una fattoria didattica della Garfagnana apposta a sentire come ci muoviamo in provincia di Arezzo e quello che stiamo facendo con le nostre fattorie didattiche. Quindi sta andando benissimo. Si è parlato di controlli di sicurezza in fattoria, che cosa è immerso su questo fronte? Sì, è emerso la necessità ovviamente di un regolamento regionale che renderebbe tutto più facile ovviamente. Ci sono regioni come l'Emilia Romagna che hanno un regolamento fin dal 2000. Abbiamo deciso di mettere mano ad un piano di autocontrollo in maniera che le aziende, perché purtroppo non essendoci questo regolamento non è sempre facile capire se uno può essere soggetto a sanzioni o meno, anche se sta svolgendo il suo lavoro con buon senso e nel rispetto delle normative vigenti. Però abbiamo deciso di fare dei piani di autocontrollo apposta, proprio ad hoc sulle fattorie didattiche, perché così le nostre fattorie si possano lavorare con ancora più tranquillità di quella che già comunque hanno, perché lavorano veramente bene. L'amministrazione provinciale sta lavorando molto bene sulle fattorie didattiche, ha creato una rete di fattorie per le quali sta lavorando, le sta organizzando e anche formando dal punto di vista della didattica. Oggi purtroppo bisogna continuare a marcare una mancanza dal punto di vista della Regione, che prevede l'esistenza delle fattorie didattiche e sociali nella nuova legge agrituristica, ma non ha ancora provveduto a provare i regolamenti, sia delle fattorie didattiche che sociali. Regolamenti che sarebbero molto importanti per riuscire ad operare in un quadro legislativo più certo e più sicuro per le aziende. Direttamente colpista che non può giurare in un quadro legislativo.